Io credo assolutamente di sì, anche se dipende molto dai settori nei quali si opera. Per quanto mi riguarda l'esperienza che ho come imprenditore, Zucchetti Cos, sono un'azienda manifatturiera, però con un'attitudine industriale. Quindi far convivere dei processi tecnologicamente avanzati con l'artigianità ancora di alcuni passaggi è assolutamente indispensabile. Se poi parliamo di prodotti di design di fascia medio e alta, è indispensabile far convivere queste due situazioni.